Nel 1989 esce un album decisamente particolare, intanto lo vado a registrare a Mosca in una cattedrale sconsacrata con la grande orchestra, con ancora Michele Santoro e Paolo Raffone che fa gli arrangiamenti orchestrali, quindi grande orchestra russa con un progetto particolare, intanto incidere un po' di canzoni italiane che mi avevano segnato, Alice di De Gregoria, Canzuncella degli alluni del sole, La casa in riva al mare, Canzone per te di Sergio Endrigo, Incontro di Vuccini, Panama di Fossati e poi aggiungere delle mie canzoni. C'è una canzone scritta con Riccardo Cocciante che si chiama Il funambolo, il singolo invece è diverso, scritto con Luigi Schiavone, si chiama Che temperamento, il mio brano preferito per distacco di questo album, però è Bratisca, un pezzo con ancora il sax di Andy McKay e con reminiscenze letterarie russe, insomma un pezzo che ho suonato dal vivo anche successivamente. Copertina particolare fatta con una Polaroid, dove ci sono io in una cabina del telefono e un soldato sovietico. Insomma un disco che farà parlare perché per la prima volta un musicista occidentale va a registrare in Unione Sovietica. L'anno dopo andò anche e soprattutto andò Paul McCartney. Quindi un album che segna un altro tipo di cambiamento, cioè un mio occhio verso mondi lontani. L'album si chiamava ovviamente Contatti.